Nome, San Cirillo d'Alessandria Vescovo e Dottore della Chiesa. Cirillo fu l'intrepido difensore della Divina Maternità di Maria, il trionfatore di quel concilio di Efeso che mise fine a un'insidiosa controversia teologica che aveva contrapposto per anni le due sedi più prestigiose dell'Oriente, quella di Alessandria. In Egitto, della quale era Vescovo Cirillo, e quella patriarcale di Costantinopoli retta da Nestorio. Il patriarca Nestorio, intelligente e astuto la sua parte, si era fatto portavoce di un'idea che, di primo acchito, poteva apparire una sottigliezza bizantina, ma che in realtà smantellava uno dei dogmi chiave del cristianesimo, l'incarnazione. Nestorio si era messo a contestare il titolo di Teotokos, cioè madre di Dio, con il quale veniva onorata la Vergine Maria. Tata al più affermava Nestorio la potremmo chiamare madre di Cristo, cioè Christotokos. Gli pareva assurdo che una donna potesse essere madre di Dio. La realtà era che quel Gesù che Maria aveva dato alla luce nella grotta di Betlemme era lo stesso verbo vivente, generato dalla stessa sostanza del padre e che nel tempo si era fatto carne. Era insomma figlio di Dio. L'incarnazione non era una pura unità di relazione di due persone in Cristo, quella divina e quella umana, ma un'unione sostanziale, ipostatica come dicono i teologi. Quindi Maria è madre di Dio, questo insegnava da sempre la Chiesa universale. Proclamando queste tesi, Cirillo si oppose alle novità di Nestorio, prendeva il via così una contesa aspra e serrata, nella quale si intromise anche l'imperatore di Costantinopoli, minacciando prima di esilio il vescovo di Alessandria e passando poi alle vie di fatto, che per Cirillo vollero dire qualche mese di duro carcere. Ma il grande vescovo non si lasciò intimorire, per la difesa dell'integrità della fede cristiana egli era disposto a tutto. Noi per la fede di Cristo, fece sapere a Nestorio siamo disposti a subire tutto, le catene, il carcere, tutti gli incomodi della vita, e la stessa morte. Battagliero più che mai, Cirillo diede fondo a tutto il suo coraggio, controbattendo con acume e con dovizia di motivi tutti i sofismi di Nestorio, il quale, a corto di argomenti, non trovò di meglio che aizzargli contro i suoi seguaci i quali gli affibbiarono per spregio l'appellativo di Faraone. Allora Cirillo si appellò all'autorità del vescovo di Roma. Degnateci di dirci scriveva Celestino I se dobbiamo restare in comunione con Nestorio o se dobbiamo cessare ogni relazione. Il Papa gli rispose affidandogli la difesa dell'ortodossia. Intanto l'imperatore di Costantinopoli, sperando nella vittoria di Nestorio, decideva di convocare a Efeso un concilio per porre fine alle diatribe teologiche che minacciavano di esplodere cruentemente in altre sedi. Ma le cose non andarono come l'imperatore sperava e, nonostante il suo appoggio, il patriarca Nestorio uscì da Efeso sconfitto. Cirillo, dotato di profonda cultura teologica, fu abilissimo nel confutare le posizioni eretiche del suo avversario e nel far brillare in tutta la sua chiarezza la dottrina della Chiesa Cattolica, così come appariva dalla Rivelazione. L'Emmanuele consta con certezza di due persone aveva spiegato all'assemblea attenta e desiderosa di essere illuminata, di quella divina e di quella umana. Tuttavia il Signore Gesù è uno, unico vero figlio naturale di Dio, insieme Dio e uomo, non un uomo deificato, simile a quelli che per grazia sono resi partecipi della natura divina. Ma Dio vero che per la nostra salvezza apparve nella forma umana. Con questa illuminante sintesi di pensiero riuscì a convincere la quasi totalità dei padri conciliari a proclamare Maria Madre di Dio, Theotokos. Ai legati, inviati del Papa, non restò che sanzionare, e con grande gioia, i decreti dell'assemblea. Il concilio di Efeso si narra finì con una grande fiaccolata in nome di Maria, la vera trionfatrice dell'Assise, e alla cui esaltazione Cirillo dedicò alcuni dei suoi più straordinari e appassionati sermoni. Cirillo, teologo acuto e polemista indomito, fu anche un valido pastore d'anime. Usò infatti gran parte della sua intelligenza nello sminuzzare a uso dei semplici fedeli i concetti, non sempre accessibili, della dottrina cristiana. Accanto alle opere esclusivamente di speculazione teologica, ci sono state tramandate 156 omelie sul Vangelo di Luca e le lettere pastorali. I meriti del battagliero vescovo stanno comunque nella sua tenace fermezza posta alla difesa dell'ortodossia e nella santità di vita. Tali meriti, almeno in Occidente, gli vennero però riconosciuti piuttosto tardi. Il suo culto venne infatti esteso a tutta la Chiesa Latina soltanto sotto il pontificato di Leone XIII nel 1882 e in tale data gli venne anche conferito il meritatissimo titolo di dottore della Chiesa.